Hey, ciao! Se hai cliccato in questo video è perché sei interessato ad avere delle informazioni sul mio corso Il Potere di Cambiare Mente. Ti dico fin da subito che questo corso non è per tutti, ma è riservato esclusivamente a tutti quelli che vogliono utilizzare bene il loro tempo e spendere bene i loro soldi. Ti dico anche che questo programma formativo al momento ha un'offerta sotto corso. L'obiettivo di questo corso è di permettere ai partecipanti di costruirsi una palestra personale dove allenare il proprio benessere psicologico. Questo programma di lavoro è stato sviluppato da me dopo tanti anni di esperienza ed è uno dei programmi di lavoro più efficaci che io sia riuscito a realizzare nell'ambito del mio lavoro professionale. Molte persone hanno ottenuto dei grandi benefici lavorando attraverso gli strumenti che questo corso metterà a disposizione e con la partecipazione a questo corso questi strumenti potranno diventare tutti. Proprio per l'efficacia che questo programma di lavoro ha sviluppato a beneficio di tante persone ho deciso oggi di metterlo a disposizione di tanti e in maniera molto più economica. Per molti l'obiettivo della partecipazione a questo corso può essere quello di sostenere con maggiore tranquillità un esame universitario, per altri potrebbe essere quello di diventare meno irascibili, per altri potrebbe essere quello di ridurre le proprie paure, per altri potrebbe essere quella di aumentare la fiducia in se stessi, per altri potrebbe essere quello di essere più tranquilli e rilassati all'interno di una situazione sociale. Per altri potrebbe anche essere quello di diventare più intraprendente. Che tu sia un professore, un libero professionista, un farmacista, un medico, un commerciante, non importa. Quello che importa è quanto ti piacerebbe riuscire ad avere degli strumenti che ti permettono di allenare e potenziare le tue reazioni emotive. Quello che importa è quanto in questo momento sei interessato a lavorare su te stesso e di venire a conoscenza di strumenti che possono aiutarti a vivere meglio e con maggiore grado di benessere. Questo corso ha l'obiettivo di creare nei partecipanti la possibilità di sviluppare una palestra psicologica personale dove allenare il proprio stato di benessere. Allenare il proprio stato di benessere per molti può essere quello di vivere una vita in maniera meno stress. Meno stress vuol dire oltre che vivere meglio farsi un gran bene sia a livello fisico che a livello mentale. Oggi è risaputo da un punto di vista medico che vivere meglio e con minore stress significa rafforzare di molto le proprie difese immunitarie e avere un sistema immunitario molto più efficiente significa ridurre la probabilità di ammalarsi con maggiore frequenza. Vuol dire essere più resistenti. La partecipazione a questo corso ha due vantaggi. Il primo è che ogni partecipante possa ritornare a casa pienamente soddisfatto che tutto quello che ha ascoltato, visto e praticato già lo sapeva e quindi la conclusione sarà che lui è sulla stata giusta. Il secondo vantaggio invece è che ogni partecipante possa portare con sé nuove conoscenze, nuove abilità che potranno contribuire sempre di più a migliorare i suoi stati di benessere e a vivere la vita più serenamente e con minore stress, che in altre parole potrebbe voler dire dormire più serenamente. L'obiettivo di tutti è quello di vivere meglio e più serenamente. Se questo è un obiettivo che vuoi migliorare e potenziare, questa è l'occasione giusta che hai davanti a te. Il corso di formazione è sviluppato in quasi 16 ore e il valore formativo, come già detto, è offerto a livello di sottocosto. Un sottocosto non perché valga poco, ma perché è la sua prima edizione, perché ha un numero di posti limitati e perché voglio mettere a disposizione di tanti i benefici di questo programma formativo. Qualora tu volessi iscriverti o saperne di più, vai al mio sito www.leonardofricano.com Vai alla voce del menu Il potere di cambiare mente, clicca, troverai tutte le informazioni che ti servono e su come iscriverti. Qualora quelle informazioni non siano sufficienti, non esitare a scrivermi un'email o a telefonarmi. Qualora non ti potessi rispondere, ti richiamerò successivamente io. Ciao e a presto.